Il business dei parcheggi, immigrati sfruttati come parcheggiatori abusivi a Palermo e guadagni interamente in tasca ai capi delle zone controllate, l'allarme della procura, ipotesi di capolarato. Brusca frenata, quando tutto sembrava deciso sul fronte centro-destra, con il ticket tra Musumeci Armao, Cantiere Popolare di Savile Romano e Silvio Berlusconi, sollevano perplessità sul leader di Divianterà Bellissima. Intanto l'editore ed ex deputato nazionale e regionale, Ottavio Navarra, ufficializza la sua candidatura con la sinistra. In fuga dal killer, stava lavorando nelle sue serre allicata quando sette colpi di pistola lo hanno raggiunto, senza lasciare di scampo. Fermato il nipote della vittima, gli agenti, dopo averlo interrogato, hanno trovato in casa le sue tracce di sangue alla base, debiti non saldati. Decimato. Il Palermo prepara l'esordio di sabato prossimo contro lo Spezia, ma già teme le assenze per le nazionali contro il Brescia. Ai Rosa mancherebbero ben 12 giocatori di prima fascia, Conte Dino, che dovrebbe inventarsi una squadra da mandare in campo. Gentili amici, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione da Lorenzo Anfuso, da tutta la nostra redazione. Avete appena assistito ai nostri titoli di sommario di questo sabato 19 di agosto. Partiamo con la nostra redizione parlando ovviamente di cronaca, ipotesi di caporalato nel business dei parcheggiatori abusivi. Scatta così l'indagine della procura di Palermo. Gli stranieri vengono reclutati per 300 euro al mese, ma i ricavi, ammontanti a 3.000 euro nella sua città di Palermo per i parcheggi abusivi, vengono consegnati interamente ai capi più anziani. La stretta nei confronti dei parcheggiatori abusivi a Palermo era stata avviata grazie al daspo urbano, ovvero l'allontanamento temporaneo dal luogo in cui avviene il reato. Dentro il fascicolo della procura però si nasconde ben altro. Non si tratterebbe che di pesci piccoli dietro il monopolio dei parcheggiatori in città, per cui si ipotizza il reato di caporalato nei confronti degli immigrati, sfruttati per ricavare il 90% degli introiti. Nella dettagliata inchiesta, pubblicata oggi nell'edizione cartacea di Repubblica, viene raccontato cosa accade nel capoluogo. Punti nevralgici, piazza Marina, via 20 Settembre, gli ospedali della città e le zone costiere di Mondello e della Daura. L'esercito dei parcheggiatori stranieri, formato in gran parte da bengalesi e africani, viene costretto a consegnare l'intero incasso ai caporali, in alcuni casi parcheggiatori più anziani che gestiscono l'intera area. Ogni posteggiatore immigrato arriva ad incassare circa 3.000 euro al mese, ma in tasca gli arrivano soltanto 300 euro, perché il resto viene consegnato al suo capo. Circa 40 euro a turno, che si riducono a meno di 10 euro al giorno. E anche Palermo è tra le città interessate dall'innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo. Più uomini delle forze dell'ordine per le strade, attenzione elevata attorno ai luoghi di interesse storico e a centri di aggregazione. Dopo l'attentato terroristico di Barcellona sono stati intensificati i controlli di sicurezza anche a Palermo. Blocchi in cemento sono stati collocati in corso Vittorio Emanuele, vicino alla cattedrale e quattro canti. Sono sistemati a poca distanza l'uno dall'altro, in modo ovviamente da impedire il passaggio di un mezzo pesante, come accaduto in Spagna. Il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza è stato deciso a livello nazionale dal ministro dell'interno Marco Minniti. Nelle prossime ore, in virtù di quanto deciso da Roma, si terrà una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. In rappresentanza del Comune parteciperà l'assessore Gaspare Nicotri. Passiamo adesso alla politica. Quando tutto sembrava ormai deciso, ecco la frenata sul ticket tra Musuma e Giarmao proposto nel centro-destra per risolvere la grana legata al candidato da presentare il 5 novembre prossimo alle elezioni regionali. Un mezzo veto, quello imposto da Cantiere Polare e Popolare, scusate, è da Silvio Berlusconi. Mosse e contromosse nella scacchiera per antonomasia, che è la politica. Sembrava tutto fatto per la definizione dell'accordo nel centro-destra, il famoso ticket tra Musumeci e Armao, con il primo candidato governatore e il secondo a fargli da vice, manco si trattasse delle presidenziali americane. Sembrava perché Cantiere Popolare da un lato e, anche se indirettamente, Silvio Berlusconi dall'altro, hanno bloccato tutto proprio sul più bello. Il partito presieduto da Saverio Romano avrebbe chiesto del tempo in più per individuare un candidato più moderato del leader di Diventerà Bellissima, dietro miti consigli pare anche di Dottor Cuffaro, non così vicino da potersi definire sceso nuovamente in campo, ma neanche così lontano da non continuare ad influire sul panorama politico regionale. Un'ipotesi quella di un candidato del centro-destra di respiro più moderato, perseguita anche dal Cavaliere stesso. Berlusconi avrebbe incontrato recentemente proprio l'ex assessore Gaetano Armao, il quale lo avrebbe favorevolmente impressionato, tanto da spingerlo a pensare di proporlo per il ticket con Musumeci, ma invertendone i ruoli lui alla presidenza e il catanese alla vicepresidenza. La strategia dell'ex premier è presto spiegata. Candidare Armao figura più inclusiva e spendibile per un'eventuale larga intesa rispetto a Musumeci, uomo di centro-destra vecchio stampo e conservatore, in modo da far pendere la bilancia degli indecisi tra gli alfaniani, che non sarebbero affatto pochi. L'impasse del ministro trasversale storico ex delfino di Berlusconi e adesso nemico giurato del presidente di Forza Italia, sta creando tumulti dentro l'alternativa popolare, con anime contrarie ad un accordo col centro-sinistra, ma anche altre ad uno col centro-destra. Una spaccatura definitiva con Alfano insieme al PD, ma senza molti dei suoi esponenti siciliani, consumerebbe la disfatta alle urne. E sì, anche perché gli altri, intesi come Movimento 5 Stelle, sono già in campagna elettorale, corrono con il proprio candidato. Riprende oggi il tour a tutta Sicilia, il giro elettorale grillino dell'isola a bordo di due pulmini elettrici del candidato alla presidenza della regione siciliana, Giancarlo Cancelleri, insieme al vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e al deputato Alessandro Di Battista. Dopo una settimana di stop si riparte dal comune 5 Stelle di Gran Michele, oggi alle 17.30, in serata alle 21.00. È previsto invece il comizio a Gela sul lungomare Federico II. Il giro proseguirà domani a Favara, lunedì a Porta Empedocle, martedì a Sciacca, mercoledì Mazzara, piazza Mocarta, giovedì Marsala, venerdì ad Alcamo, sabato a Mussomeli, domenica a Pietra Persia. Il 28 agosto la chiusura con passeggiata a Bagheria e comizio serale a Termini Merese. E sullo sfondo della bagarre tra centro-destra e centro-sinistra e il numero 5 Stelle, per la scelta di un candidato tra i primi due, c'è anche chi è in campo per giocarsi. L'abbiamo visto come Giancarlo Cancelleri, ma anche come Ottavio Navarra, candidato della sinistra, ufficialmente presentatosi questa mattina. So che sarà una battaglia durissima, ma lo dobbiamo a tanti giovani che in Sicilia non vengono neanche ascoltati. Ha scelto queste parole l'editore politico Ottavio Navarra per ufficializzare la sua candidatura alla carica di presidente della regione per le prossime elezioni del 5 novembre. Una proposta accolta con riserva è solo oggi sciolta in modo positivo, quella avanzata al 52enne, già deputato nazionale e regionale da Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Azione Civile, Possibile, di Civati e da varie associazioni. Figura politica di sinistra emergente negli anni 90, a 27 anni Navarra era già segretario regionale della sinistra giovanile nel PDS e due anni dopo eletto a Montecitorio per la Quercia. Dopo altri due anni il passaggio a Lars, dove viene eletto con 10.000 voti, sempre nel PDS, esperienza quella di Saladercole, terminata anzi tempo, due anni più tardi, perché nel 98 il Tribunale di Palermo lo dichiarò ineleggibile per le tardive dimissioni della Camera dei Deputati. Questo governo ha sgovernato, ha dichiarato Navarra nel corso della presentazione della candidatura di questa mattina a Palermo. Noi svilupperemo un grande percorso partecipativo e inviteremo i cittadini a raccontare le loro idee. Alla base del suo programma il presupposto che la Sicilia è nella morsa di politiche europee, che non rispettano le vocazioni territoriali e che l'autonomia siciliana ha sottolineato. È stata utilizzata per fare e disfare tutto quello che si è voluto. Nessuna alleanza, insomma, ma disponibilità a dialogare con quel PD dal quale i partiti che sostengono Navarra si sono fortemente allontanati già prima di questa corsa a Palazzo d'Orlean. Poi l'appello a sinistra italiana è articolo 1 in dialogo con l'Eluco Orlando per entrare nella coalizione di centrosinistra. Si uniscano dentro il nostro progetto sostenuto da coloro che non condividono l'alleanza tra PD e alternativa popolare. Ha proseguito Navarra. La porta rimarrà aperta fino all'ultimo minuto. L'attacco al civismo di Orlando inapplicabile come se si piantasse grano e gramigna prima dell'annuncio degli eventuali assessori in caso di elezione che saranno comunicati prima delle urne. Torniamo adesso alla cronaca. Freddato con sette colpi di pistola nelle campagne di Licata dopo un inseguimento fra le serre. è fermato il nipote del muratore 52enne ucciso ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori si tratta di un regolamento di conti per questioni economiche irrisolte. Stava lavorando nel suo terreno in contrada Mollacafai a Licata quando sette colpi di pistola lo hanno raggiunto senza lasciargli scampo. A distanza di poche ore si fa luce sull'omicidio di Giacinto Marzullo un muratore di 52 anni sorpreso ieri pomeriggio poco dopo le 17. Fermato con l'accusa di omicidio il nipote 18enne. Sulla sua posizione dovrà decidere il giudice delle indagini preliminari per la convalida del fermo e l'emissione di una misura cautelare. Un regolamento di conti per questioni economiche e debiti non saldati sembrano essere alla base dell'estremo gesto. In seguito all'interrogatorio gli investigatori hanno trovato a casa del giovane tracce di sangue. Giacinto Marzullo ieri pomeriggio dopo un inseguimento fra le serre è stato colpito al torace alle spalle e alle gambe da una pistola calibro 9 nelle vicinanze di un deposito adibito a magazzino di arnesi agricoli. Una telefonata anonima ha avvisato i poliziotti del vicino commissariato della sparatoria consumatasi tra le serre ad allertare gli agenti di polizia e confermare il contenuto della chiamata anche l'allarme lanciato da diversi agricoltori vicini al luogo del delitto. Immediato l'intervento degli agenti che hanno rivenuto il cadavere è crivellato di proiettili. Desiderava chiudere la relazione sentimentale che la legava al suo compagno ma l'uomo per nulla rassegnato si è armato di piccone e si è introdotto in casa della donna dopo aver scavalcato una recinzione aver forzato una persiana in legno sorpreso dagli agenti chiamati dalla vittima avrebbe tentato la fuga ma è stato bloccato tempestivamente è successo a Siracusa la compagna ha ricostruito dalla polizia all'intera vicenda raccontando altri aneddoti di stalking e violenze richieste di denaro dietro minaccia il 46enne già noto alle forze di polizia è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata resistenza e violenza pubblico ufficiale tentata estorsione atti persecutori e minacce gravi incidente mortale a Mazzara del Vallo nel Trapanese un ciclista Ferdinando Laurini di 40 anni è morto dopo l'impatto con un'auto una Peugeot 206 l'incidente è avvenuto nei pressi delle cavalchevie di via degli archi secondo una prima ricostruzione della polizia municipale l'auto e la bicicletta percorrevano la stessa direzione quando per causa ancora in via di accertamento il ciclista è stato investito Laurini si è schiantato sul parabrezza della vettura e dopo essere stato trascinato per diversi metri è finito contro il guardrail per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari del 118 passiamo allo sport manca ancora una settimana l'esordio ufficiale contro lo Spezia in serie B ma al Palermo sembra si pensi già alla sfida successiva quella a Brescia il tutto a causa della polemica con vocazione in nazionale che per quella sfida toglierebbe a Tedino ben otto titolari oggi l'ultimo test col Mazzara sabato prossimo l'esordio al Barbera con lo Spezia e il 2 settembre quello in trasferta nella seconda giornata contro il Brescia se con tutto il rispetto per i mazzaresi dovrebbe essere già lo Spezia ad occupare elementi dei rosa-nero al momento sembra si pensi con timore più già all'impegno contro le rondinelle paure dettate esclusivamente dalla questione nazionale la bomba fatta defagare manco a dirlo da Zamparini sta tenendo tutti impegnati la lettera aperta inviata dal patron friulano al presidente Figgi C Carlo Tavecchio ha previsto uno scenario che vedrebbe proprio i rosa privati di ben 12 giocatori importanti perché convocati dalle rispettive nazionali i cui impegni fermano sì il campionato di Serie A ma non quello cadetto una singolarità che costringerebbe Tedino a presentare a Brescia una formazione che definire rimaneggiata è un eufemismo se contro lo Spezia ci si può attendere l'undici ideale con pose avesse tra i pali Cionec Strune Bellucci in difesa Morganella Iaglialo Ciogeve Alessami a centrocampo e un tridente formato da Trecoschi Coronado e Nestorowski sette giorni dopo il Palermo non si potrebbe neanche riconoscere tanto cambierebbe il volto importa nessun problema andrebbe Pomini difesa con Bellucci affare da guida spirituale ai giovani Davidoviz e Accardi centrocampo con il solo Morganella disponibile al centro Gnaorè Fior di Lino e a destra Rolando in avanti Coronado e la suggestiva almeno per i tifosi coppia d'attacco tutta palermitana formata da Lagumina e Lofaso con al posto di quest'ultimo la soluzione Embalo da recuperare fisicamente e psicologicamente tutto questo con un Diamanti che si allena in rosa nero corre e suda in settimana ma che resta fuori dal progetto tecnico e quindi lasciato a correre a vuoto Ecco la sport è tutto per questa edizione noi vi lasciamo alle previsioni meteo e vi ringraziamo per averci seguito alla prossima Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo Nel corso di questa domenica correnti più fresche in arrivo da nord daranno luogo a una generale rinfrescata soprattutto sui versanti orientali della penisola notate anche qualche locale rovescio pomeridiano che interesserà il medio adriatico e l'appennino centro meridionale prevalenza di bel tempo invece altrove diamo uno sguardo anche alla nuvolosità che sarà comunque di scarsa consistenza al centro nord maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio si concentreranno sul medio adriatico e da seguire anche sul centro sud appennino e qui come dicevo poc'anzi non mancheranno locali rovesci o isolati temporali per il resto bel tempo e lo notiamo anche nella grafica successiva che evidenzia una situazione prevalentemente soleggiata al nord le regioni tirreniche e le isole maggiori mentre deranno velocità irregolare nelle ore centrali della giornata transiterà sul medio adriatico con piogge e qualche temporale che a tratti si estenderà anche alle coste molisane e l'appennino meridionale le temperature come dicevo poc'anzi si abbasseranno soprattutto sulle regioni adriatiche un aumento è atteso al nord ovest e ai settori tirrenici ma comunque con caldo senza eccessi con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati seguiteci su trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!